Paolo Macri, buonasera. Buonasera, buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo saggio pubblicato dal Molino, saggio che si sviluppa per circa 250 pagine, storie di fuoco, patrioti, militanti, terroristi. Leggo nel risvolto di copertina che Paolo Macri è storico dell'età contemporanea e commentatore politico. Con la casa elettrice Il Mulino di Bologna ha pubblicato La Società Contemporanea nel 1995 e quindi nel 22800, a cui è seguita poi Unità a Mezzogiorno, quindi nel 2018 un libro dedicato a Napoli. E due anni fa, gli ultimi giorni stati che crollano nell'Europa del Novecento. E qui andiamo insieme con il nostro ospite a entrare nella storia. Questa collana si intitola Intersezioni ed è un nome che veramente collima esattamente con quanto racconta Paolo Macri in questo saggio. Vogliamo partire dall'immagine di copertina, Paolo Macri ce la vuole raccontare? Sì, l'immagine di copertina è una donna, è una ragazza, è una famosa nota, Marina Ginesta è una miliziana della guerra di Spagna che ha un'aria spavalda, ha un fucile a tracolla, dietro si vede nettamente Barcellona, siamo nella metà degli anni Trenta, è uno dei momenti che passa in rassegna in questo libro, per l'appunto, è l'Europa tra le due guerre e quindi uno dei suoi momenti più importanti, che è la guerra civile spagnola. E questo libro si apre con questa frase oggi, la politica sembra avere smarrito il corpo. Già solamente per questa prima frase ci sarebbe da fare una conversazione a parte. In che modo oggi, Paolo Macri, possiamo ritrovare questo corpus politico che abbiamo perso? Eh beh, questo è difficile dire, è difficile capire se avverrà, come avverrà e quando avverrà. Io devo dire, adesso così per dare proprio un cenno alla natura di questo scritto, io questo libro l'ho cominciato, non dico che ho deciso di farlo, ma ho cominciato a scriverlo, ecco diciamo nel lockdown, cioè un paio d'anni fa praticamente, quindi tra l'altro in una condizione un po' particolare perché chiaramente non si poteva andare in biblioteca, insomma c'era tutto chiuso, quindi bisognava lavorare sulle fonti online, che peraltro sono, come si sa, molto ricche, molto numerose, molto importanti, molto utili. Il lockdown, cioè, come dire, quella che a me sembra una condizione tendenziale dell'Occidente contemporaneo, della democrazia di oggi, la politica senza corpo, basti citare i fenomeni dell'astenzionismo, i fenomeni dell'immediatezza politica, come trasuda dai social, insomma, ci sono il crollo dei partiti, insomma ci sono un sacco di elementi che ci suggeriscono che oggi la politica sta perdendo il corpo, si parla perfino di elezioni con un click, quindi probabilmente potremmo addirittura arrivare ad un momento in cui anche gli elettori, oltre che gli eletti, oltre che i partiti, potrebbero finire per perdere il corpo. La condizione del lockdown era in qualche modo una, forse addirittura più che una metafora, ma era un elemento molto, come dire, molto, molto forte, insomma, cioè io ho avvertito un tema di cui tutti siamo consapevoli, ma l'ho avvertito, come dire, in questo vuoto dei corpi, tipico dei mesi della chiusura, l'ho avvertito in modo particolarmente, sì, se vogliamo usare una parola un po' forte o retorica in modo anche esistenziale, questa stava diventando un po' una condizione esistenziale, quindi appunto in qualche modo mi sono buttato sullo studio di persone, personalità, donne, uomini che invece mettevano il corpo nella politica, nella sfera pubblica, lo mettevano proprio a rischio, lo perdevano spesso, lo perdevano, i martiri di Belfiori, i mazziniani del 1850 finiscono impiccati, insomma, Cesare Battisti finisce impiccato, insomma, e quindi in qualche modo era una sorta di risposta, detto così, o con uno slogan, un po' in modo semplificato, era una risposta a quel lockdown che è oggi forse una tendenza politica che riguarda, io direi, buona parte dell'Occidente, di tutta l'area atlantica, insomma, adesso non voglio aprire un altro capitolo, ma ci sarebbe da parlare sulla politica nordamericana oggi, e non soltanto sulla politica occidentale europea oggi. E questo libro attraversa l'Europa, attraversa la storia, partendo dal 1700, in quanto proprio in provincia di Cuneo, a Savigliano, nel 1783, nasce un personaggio storico che tutti quanti conosciamo, noi l'abbiamo raccontato recentemente a seguito dei moti del 1821, l'abbiamo raccontato con un saggio di Chiara Tavella per l'appunto Confession Sant'Orre di Santa Rosa, ecco, quest'uomo che viene anche raccontato in questo libro Storie di Fuoco, in che modo? Partendo proprio da questa figura, da questa figura che a cavallo tra il 700 e l'800, queste storie di fuoco appartengono a Sant'Orre di Santa Rosa, anche se quel tempo la storia di fuoco era profondamente diversa rispetto a quello che poi andremo ad analizzare, seppur nella brevità, al tempo, per esempio, del terrorismo, al tempo della guerra e così via. Certo, Sant'Orre di Santa Rosa è, se la vogliamo dire, anche qua con una semplificazione, è un eroe romantico, appartiene ad un momento e ad un movimento che in qualche modo esprimeva, parliamo sempre di elite, parliamo sempre di pochi o pochissimi, ma che in qualche modo esprimeva una internazionale della libertà dei popoli, Sant'Orre di Santa Rosa, ma è inutile citare un Byron, è di quelli che vanno a morire in Grecia. Cos'è la cosa, diciamo, che io ho sottolineato? Insomma, anche qui è una scelta forte, perché Sant'Orre di Santa Rosa va in Grecia e, come sappiamo, muore, insomma, colpito dal fuoco degli ottomani. Il problema è di capire perché va in Grecia. Certo, Sant'Orre è un esule, e dopo il 1820 va in giro per l'Europa, va prima in Francia, poi in Svizzera, poi in Francia, poi a Londra, eccetera. E poi alla fine decide di andare in Grecia. Perché? Eh beh, perché dice io sono un soldato, non posso stare qui senza far nulla, perché la Grecia e l'Italia e qui reminiscenze classiche hanno in qualche modo l'aspetto della decadenza, ma un passato glorioso, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Il punto è che Sant'Orre di Santa Rosa, come cerco di mettere in evidenza io, è qui in queste pagine, è come un personaggio molto legato all'amore romantico, molto legato alla passione romantica, alla sua famiglia, a Carolina, alla moglie, scrive delle lettere appassionatissime, lunghissime, alla sua Carolina, cioè cinque figli. Mentre pretende, mentre pretende, mi scusi se la interrompo, che la moglie dedichi il giusto tempo perché se lui era in esilio in Grecia, come diceva lui, pretendeva dalla moglie la stessa attenzione, lo stesso tempo in attesa di riunirsi di nuovo. Certo, certo, appunto, c'è questo esilio proprio così scandito dai continui tentativi di richiamarsi a sé la famiglia, allora immagina di farla venire appunto prima in Svizzera, poi in Francia, poi a Parigi, poi in periferia, poi a Londra, poi in una cittadina vicino a Londra, ogni volta il progetto fallisce perché non ci sono i soldi, per una serie di motivi insomma, ma la verità è che poi alla fine dico sulla sfera privata, su questa sfera privata che è debordante perché ripeto, noi di Sant'Or abbiamo, come dire, l'immagine del personaggio diciamo così pubblico, ma Sant'Or ha una dimensione privata fortissima, molto, molto forte, alla fine però la dimensione privata viene sconfitta perché Sant'Or parte per la Grecia conoscendo poco tra l'altro della Grecia, non essendo particolarmente amato dal governo greco in esilio e anzi in qualche modo essendo diffidato insomma, dai greci che tutto sommato non lo vogliono perché poi Sant'Or a sua volta è perseguitato insomma dagli austriaci, dai piemontesi, quindi ci sono mille motivi per tenerlo lontano. Ci va lo stesso in Grecia, questa è la cosa un po' notevole, ci va senza avere nessun incarico, facendo il soldato semplice, vedendo tutte le inefficienze dell'esercito greco eccetera eccetera e muore e i comandanti greci dicono ma questo è un pazzo insomma che bel pazzo dice il comandante dell'artiglieria di Greca, che bel pazzo questo vostro Sant'Or che viene qui a morire insomma perché? Per l'idea di libertà dei popoli, per la ricerca di gloria appunto come diceva lei siamo alla fine del Settecento siamo al primo Ottocento ma insomma questa è una storia che si svolge tra Settecento e Ottocento ed è una storia dove c'è forte l'impronta diciamo appunto anche della cultura romantica insomma Sant'Or di Santa Rosa è appunto quello che lo stesso Benedetto Croce un po' così un po' cinicamente diceva beh insomma questi eroi romantici fiutano il rischio e il pericolo e ci si vanno a buttare dentro e poi periscono e poi dopo Sant'Or di Santa Rosa ci fu un salto per così dire anche storico tra quello che è tra quello che era la visione romantica rispetto a quello che avvicinandoci sempre di più nel tempo anche se per poco cioè l'ideale mazziniano che era completamente un altro un altro sguardo rispetto a quello di Sant'Or di Santa Rosa è certo è certo poi arrivano appunto arrivano i mazziniani arrivano i insomma arrivano questi giovani sono giovani intendiamoci sono proprio giovani sono quasi tutti poco più che ventenni che vanno a sfidare radeschi vanno a sfidare l'impero austriaco cioè fanno il passo più lungo della gamba ovviamente insomma oltretutto non sono abituati a fare quello che stanno facendo mettono in piedi una congiura che è evidentemente ingenua che è velleitaria che è isolata perché certo attorno hanno le famiglie a manto ma insomma dico sostanzialmente sono loro e soltanto loro insomma è una è una è una dimensione io a un certo punto dico che mi sembrano tra tra gli eroi veri sono tra gli eroi veri perché in fondo si battono e ci rimettono il collo come si suol dire ci rimettono la vita si battono lasciando anche loro famiglie amici contesti lavoro eccetera ricchezza familiare patrimoni via dicendo in qualche modo senza sapere come andrà a finire insomma stanno facendo una cosa che noi valutiamo come come dire l'antipasto la premessa dell'unificazione dell'Italia ma loro non lo sanno come va a finire la storia e quando sono al dunque il giorno prima o i giorni prima dell'esecuzione questa specie di solitudine disperata o sconsolata si 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 vede si vede chiaramente insomma c'è uno di questi che dice al padre brucia tutto brucia tutte le cose che ho brucia le mie carte non pensare a me non ci pensate fate qualcos'altro insomma e che non è un modo ovviamente sarebbe sciocco riduttivo di vedere il mazzinianesimo o il risorgimento ma la dimensione individuale è una dimensione che chiaramente rende insomma più sfaccettata complessa diciamo così con un termine abusato più complessa insomma la scelta del mettere la propria vita a disposizione di una patria che non c'è ancora Paolo Macri e poi in questo viaggio attraverso le storie di fuochi tra storie di fuoco tra patrioti militanti e terroristi arriva arriva la guerra e non è solamente il tempo della guerra perché c'è la guerra militare la guerra sociale e la guerra civile e soprattutto nella guerra civile i militanti sono presenti e qui anche qui rispetto alla storia precedente siamo nella seconda guerra mondiale ma anche nella prima lo sguardo lo sguardo di chi è un patriota di chi è militante è completamente diverso rispetto al passato ma ancora comunque lontano dalla nostra contemporaneità in che modo quelle storie di fuoco ci possono rappresentare e possono nella prospettiva del tempo ancora dirci qualche cosa beh sì sono come dice lei sono d'accordo sono dimensioni esistenziali io qui ho come dire in questo libro c'è una ventina diciamo di brevi storie ovviamente di biografie come ovvio molto selettive molto selezionate come dire che hanno delle motivazioni che a noi possono apparire sì insomma non dico obsolete ma insomma appartenenti per l'appunto ad altri periodi insomma la forza con cui insomma i trentini stuparic o lo stesso Wittgenstein insomma il filosofo Wittgenstein lasciano anche loro tutto Baracca e Burattini e entrano insomma volontariamente in quel grande carnaio in quel grande massacro che è il 14-18 ci può tutto sommato stupire colpire sono attitudini sono atteggiamenti che oggi sarebbero del tutto insomma sarebbero del tutto sarebbero poco 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 consueti poco comprensibili certo poco comprensibili però per far comprendere la storia bisogna forse avvicinarsi e nello stesso tempo non dimenticare la storia che per esempio abbiamo citato seppur per accenni quella di Santoro di Santa Rosa e altre e altre figure arrivare vicino a noi ovvero dal dopoguerra l'Italia bene o male si è si è tirata su forse in maniera ancora più più velocemente rispetto alle altre alle altre nazioni che erano state sconfitte e poi l'Italia arrivò ad essere armata ma ad essere armata in una maniera particolare perché qui non c'era più la guerra ma c'era un'altra cosa c'era il terrorismo probabilmente un altro modo di fare la guerra e questo libro lo tratta e sembra di ritornare a rivivere quelle storie di fuoco di stampo terroristico i cosiddetti anni di piombo e gli anni di piombo hanno veramente inciso nello sguardo politico culturale e sociale anche dell'Italia questo quello che dicevamo prima e cioè esiste un filo rosso insomma in qualche modo un filo rosso voglio dire della condizione umana forse nell'esperienza occidentale sì forse si può dire della condizione umana che è appunto la partecipazione politica intendiamoci qui stiamo parlando di elite estreme insomma perché la scelta di mettere di dare il corpo alla politica ovviamente non è da tutti che ovviamente insomma poi trovano delle motivazioni che sono di volta in volta prima si diceva la guerra quindi la patria lo stato nazionale il partito tutto l'interregno diciamo tra prima e seconda guerra mondiale c'è la forza delle ideologie il conflitto tra comunismo e fascismo rivoluzione e contro rivoluzione insomma le motivazioni sono molte è molto interessante per questo poi alla fine ho scelto di chiudere con le vicende di Mario Moretti e Francesca Mambero e Valerio Fioravanti cioè di tre terroristi italiani è molto interessante questo perché come diceva lei questo la scelta di questi tre ma come sappiamo di tanti altri insomma sia pure una piccola sfoglia una piccola minoranza è una scelta singolare insomma perché il paese attorno a questi giovani sono anche loro giovani intendiamoci il paese è un paese dove non c'è guerra è un paese pacificato anzi è un paese che sta facendo grandi riforme che sta che vede crescere il tenore di vita è un paese che infatti non seguirà né il terrorismo rosso né il terrorismo nero insomma questi sono gruppi sostanzialmente isolati o fortemente per quanto abbiano fatto danno come dire ad un paese intero abbiano creato un problema ad un paese intero sono fenomeni molto molto di elite e qui non c'è neanche più appunto nella la nazione che chiama il partito che impone eccetera qui c'è una scarnificazione della scelta della politica che però intanto esiste tanto è vero che questi vanno lì e non muoiono ma prendono cada uno chi due chi tre chi quattro chi cinque ergastori passano una ventina d'anni perlomeno ai ferri non c'è neppure per esempio nel caso dei terroristi neri non c'è neppure come dire la sfoglia della della ideologia che si può magari invece attribuire alle brigate rosse insomma no perché Valerio Fioravanti e Francesca Mambero uccidono lo dicono loro stessi alla fine lo dicono sì certo noi poi alla fine siamo degli assassini ma abbiamo come dire siamo partiti da anche paradossalmente da una scelta di sacrificio alla politica che non è la stessa di Santoro di Santa Rosa o degli Stuparic o di Adagobeti ma che ha qualcosa di simile è sempre diciamo così un come dire inchinarsi ad una condizione politica dell'esperienza personale che in qualche modo è una tensione che vale per tutto l'Occidente per secoli possiamo dire insomma per un paio di secoli almeno e che poi appunto oggi ci lascia interdetti quando ci rendiamo conto che invece questa politica ha proprio perso questo corpo questo tipo di motivazione una motivazione che è così talvolta incomprensibile che possiamo anche dire meglio così meglio che non ci siano più insomma le mambro e i fioravanti però certo questo la rinuncia alla partecipazione politica la rinuncia all'esserci e anche a lottare e beh insomma può essere anche un problema io dico per il futuro stesso dei paesi occidentali per il futuro stesso dell'Occidente detta anche qua in modo forse un po' troppo retorico sì in modo retorico ma in ogni modo è necessario girare anche la prospettiva e vederlo da un altro punto di vista perché le sue parole Paolo Macri per quanto riguarda possiamo introdurre anche la parola ideale idealismo sono parole importanti per cui è necessario a questo punto conoscere bene la storia per incominciare a vivere bene il presente però io vorrei ancora prima di chiudere questa conversazione rimanere nel tempo delle Brigate Rosse quando all'epoca del sequestro Moro che è stata la parabola discendente delle Brigate Rosse da quel momento in poi con l'uccisione e rapimento l'uccisione di Aldo Moro tant'è vero che il fondatore delle Brigate Rosse ebbe a dire che le Brigate Rosse Renato Curcio le Brigate Rosse sono finite ora io le chiedo le chiedo una cosa è un discorso di sé e di mai con i quali la storia ovviamente non si fa ma se le Brigate Rosse non avessero cominciato a sparare le Brigate Rosse non potevano non sparare come non potevano non sparare i nuclei armati rivoluzionari cioè diciamo le Brigate Nere perché in qualche modo l'unico modo insomma di essere un'identità politica era darsi un obiettivo che ovviamente era antitetico diciamo prima l'Italia attorno alle Brigate Rosse è un'Italia non florida ma certamente è un'Italia diciamo che sta andando avanti insomma che ha anche certi elementi culturali di ottimismo potremmo dire schematicamente parlando come dire essendosi insomma essendosi qualificate come l'ultima rappresentanza della lotta di classe l'ultima rappresentanza della resistenza la tematica della resistenza tradita cosa possono fare questi possono fare un partito possono presentarsi alle elezioni ovviamente possono soltanto come dire vivere fino in fondo una dimensione antagonista tanto più sono residui del passato perché lo sono diciamoci la verità tanto più sono residui del passato quanto più sono portati come dire a rendere estrema la loro scelta ad arrivare poi alla clandestinità ad avere di fronte un uomo come Aldo Moro ricchissimo di capacità politiche e anche di umanità e decidere sia pure perplessi perché lo dicono e credo che questo sia una cosa abbastanza inequivocabile decidere di ucciderlo come dire è un pochino è una cosa paradossale ripeto mettere vicino Mario Moretti e Santoro di Santa Rosa ma è un pochino il carattere come dire esistenziale e povero insomma tutto sommato di motivazioni razionali che c'è nella scelta di Santoro di andare a morire in Grecia dove non lo vuole nessuno dove neanche lui sa chi diavolo siano questi benedetti greci è una cosa diversa ovviamente però diciamo la scelta di di Moretti e dei compagni di Moretti di creare addirittura un partito armato è una scelta insomma che ha l'ottimismo diciamo ideologico dei testi sacri del marxismo leninismo maoismo ma che in fondo è simile a quella di un Carlo Mazzantini che nell'Italia del 43 decide di fare il ragazzo di Salò per intenderci decide di andare a combattere i partigiani Carlo Mazzantini lo sa che è uno sconfitto le Brigate Rosse come dire i brigatisti insomma ostentano la vittoria ma sanno anche loro insomma che il quadro intorno nel quale si muovono è un quadro che non dà speranze quindi paradossalmente queste diventano scelte appunto con una matrice esistenziale così forte che schiaccia anche i dati di realtà lei ha scritto questo libro Paolo Macri sulla passione politica che nasce anche da privatissimi sentimenti infatti chiude il libro raccontando di suo padre Vittorio e di sua madre eh sì perché in fondo questo libro appunto è nato dal lockdown come dicevo prima ed è nato anche dal ritrovamento di un diario di mio padre che appunto il 9 settembre il giorno dopo dell'8 settembre fu fatto prigioniero e fu portato e fu internato poi andò fin su nel Baltico insomma fu internato nei campi di internamento tedeschi sì che cosa c'entra la storia di mio padre e di mia madre con le cose che stiamo dicendo certo nessuno dei due è assimilabile o a Adagometti o a non lo so o a Carlo Stuparic ma il contrario direi loro come tutti si chiama zona grigia si chiama si chiama popolazione ovviamente sono una famiglia che cerca come dire di fare la propria vita la propria vita privata di portarla avanti in un tempo di ferro e di fuoco come l'Europa tra la prima e la seconda guerra mondiale parliamo degli anni 30 quando la mia famiglia si forma io non sono ancora nato ma insomma loro si formano fanno i figli costruiscono la loro felicità beh poi sono schiacciati però dalla politica la politica da questo punto di vista non perdona non perdonava coloro come i miei genitori che vivevano nell'età del ferro e del fuoco ma non lo so se perdona noi che pensiamo di cavarcela ignorandola è una condizione molto diversa l'Europa di oggi non è l'Europa degli anni 30 e 40 dove mio padre appunto ha sofferto due anni di prigionie eccetera eccetera però il problema resta insomma e cioè si può fare a meno della politica si può fare a meno della sfera pubblica si può pensare di chiudersi in un privato come dire a doppia mandata io non lo so e ho i miei dubbi vabbè sono un vecchio praticamente nel frattempo diventato nel frattempo vecchio però penso che appunto il problema con questo non voglio dire che si possa diciamo come dire generalizzare l'esperienza dei miei appassionati di quelli di cui faccio la storia in questo libro ne voglio voglio auspicare che l'Occidente come dire diventi appassionato di politica come può essere che so io l'islamismo fenomeni appunto armati fenomeni a forte presa per l'appunto ideologica e politica come oggi sembra che la politica in qualche modo come dire migri dall'Occidente dove è nata in altri luoghi a me fa piacere che qui non ci sia la Jihad e fa piacere ovviamente che nelle nostre società non esista un certo tipo di come dire diciamo di fanatismo ma mi rendo conto che la parola è impropria che invece caratterizza anche i miei personaggi anche le mie storie di fuoco però dico stiamo attenti perché una politica troppo scarnificata troppo priva di corpo e poi alla fine allora potrebbero avere ragione quelli che dicono che la politica viene gestita dall'alto non più da da un eletto da un governo da uno stato nazionale ma da qualche burattino che è in qualche luogo del globo insomma come oggi taluni magari in modo complottistico pensano storie di fuoco il saggio che abbiamo raccontato patrioti militanti terroristi pubblicato da casa editrice in mulino storie di fuoco scritto da paolo macri in un minuto invece prima di salutarci qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni il libro che sto leggendo in questo momento non è un libro da comodino è un libro da scrittoio è un libro non nuovo tra l'altro di Jean-Marie Le Breton che si chiama tradotto in italiano che si chiama una storia in fausta è che la storia dell'Europa centrale e orientale dal 1917 alla fine del 900 perché la sto leggendo perché l'idea è quella che anche l'Italia in fondo sia meno lontana dall'Europa orientale e balcanica di quanto talvolta noi con un certo ottimismo occidentalistico riteniamo quindi direi direi appunto che una riflessione sulle vicende di un'Europa che poi invece c'è vicina insomma può essere molto utile non è un libro specialistico è un libro però molto interessante grazie davvero Paolo Macri per il tempo che ci ha dedicato buona serata grazie a voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti